Ehi, l'auricolare va bene? Sì, va bene. E il microfono? E qualcosa? Prova, prova, finirò ammazzato. Ehi, stronzo, non devi fare la spia. Questo non è un film d'azione. Per cui entra, controlla che Tyson sia lì e vattene. Sembra facile. Perché non vieni qui a farlo tu, allora? Nick, trova tappo con lo scanner. Il tuo scanner è collegato ai database locali e federali. Benvenuto nel futuro, partner. Seguilo con lo scanner e assicurati che non faccia cazzate. Oh, credo che tu stia cercando Tyson. Tyson deve scrollarsi di dosso per dosso. Lo dico io, credi. Sì, certo. Ehi, amico. Sto cercando Tyson. Tyson? Ti è andata proprio male, Nick. Andiamo. Dai una mano a un fratello. Senti, tornatene a casa. Ho bisogno di vedere Tyson. Calmo. Vedi di stare tranquillo. Fratello. Vai. Vai a parto. Vai. Falando qui. Ci siamo. Forza, Tapp. Portaci da Tyson. Non vedo nessun volto familiare qui. Continua a scansionare. Vedi di capire con chi abbiamo a che fare. Quell'affare è dotato di microfono digitali direzionale. Scansione e ascolta. Ecco, cosa succede, bro. Ehi, Fidel. Qui la situazione è parecchio attesa. Ma Tyson c'è o no? Sì, ora facciamo due chiacchiere. Ricevuto. Tyson è di là. Hai cinque minuti. Grazie. Tapp. Che ci fai qui? Ecco, Tyson. Scansionalo. Ci serve una prova della sua presenza qui. Merda. Tyson non si vede. Si sposterà, spero. La situazione ora è delicata. Tyson. Soltanto un po'. Per favore. Dai. Siediti. Ora vedo che posso fare, va bene? No problema. No problema davvero, merda. Ehi, un attimo. Chi cazzo è? Non lo so. Cosa intendi fare? Ehi, ehi, ehi. Non fare cazzate. Scansionale più che puoi. Oh, cazzo. Cercano Tyson. Forza, dobbiamo arrivare da lui. Ora. Centrale, qui tredici. Sparatori è in corso. Interveniamo. A tutte le unità, segnalata sparatoria alla terza e alla trentatresima. Forza! Io ti cazzo sono questi. Tu arresti. Ho sentito che Nelson ha ingaggiato degli uomini di Pared. Quare? Quei titti che sparano come pazzi. Chi cazzo sono? Non lo so. Zatto, rosso! Sbirri di merda! Kai! Ti copro, Nick. Quel tizio è... Attenzione! Sì! 13, sta attaccando vanni soppaggernati. Ricevuto, 13. Ci siamo. Non sprecare munizioni. Nick, partiamo! Vado! 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 Segnate i colpi di arma da fuoco. Codice 3. Ripeto, codice 3. via libera stiamo di sopra lison dovrebbe essere vicino mani in alto! in alto! merda! fermo! polizia! ehi! lo vedete? sta succedendo qualcosa che cazzo non ti muovere sei in arresto fermo lì ok ok Oh! Grazie a tutti. 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 Tyson, chi ti vuole morto? Sai, di solito gli assassini non lasciano un biglietto da visita. Dici dove sei, possiamo proteggerti. Mi spiace, ma ho dei dubbi. Merda. E adesso? Tyson è morto se non arriviamo a lui per primi. Comando, qui 13. Ci serve il tracciamento di una connessione IP in uscita. 13, tracciamento in corso e siamo collegati. Dacci qualche minuto, 13. Ricevuto. Andiamo. Gli servirà tempo. Sappiamo cosa stava facendo Tyson, ma non abbiamo idea di dove sia. Di sopra! Trovate questo strugio! Merda. Mendoza, andiamoci. Qualcuno vede qui i tuoi ferri? Non muoverti! Sei matto? Passiamo qui. È fuori? Merda! Lo tengo d'occhio, Nick. Fermo! Cazzo! Dove sei? Agenti sottotiro. A tutte le unità. 13, segnala polpi di arma da fuoco nel suo lavoro. Nick alla macchina, ora! Presto, dentro! Detecting down. Ho un indirizzo per quelli... Grazie, comando. Mandatemi le informazioni. Il tuo amico Tyson non ha idea di cosa l'aspetta. Manderò un'unità aerea a controllarti. Ci portiamo sul posto. Lo prendiamo e ce ne andiamo. 55, allontanatevi! No, no, no. No, no, no. Non siamo il nostro arrivo! No! Scevuto! Sfonda la porta lunga. Hai avuto a memoria i tuoi diritti. Senti, non vogliamo arrestarti, ma devi venire via. Prendo la mia roba. Ehi, mi spiacerebbe dirci che cazzo succede. Sai come passo le mie giornate? Al computer. Non vado per le strade da un sacco. Questa è una guerra senza esclusione di colpi e pare che io stia dalla parte dei perdenti, non so altro. Parliamone dopo. Vai! Oh, merda. Mi ha presa! Che grazie. Cazzo. Oh, che cazzo. Ok, tampono la ferita, va bene? Ok, forza, puttola! Lo so, lo so, tieni duro. Non siamo qui per te, spesso! Nick! Non ti lascio. Fa un culo. Cazzo. Cazzo. Dai, guardami. Dai, resta con me! Prendiamoli! Oh, che merda! Kai! 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 Cazzo! Kai, resisti! Un'arma! Detective, conosci quest'uomo? Oh, lui? Sì, è uno che lavora al computer. Sì, è uno che lavora al computer. E, è uno che lavora al computer. Che, per te. E vi, per te.